Possiamo aiutarvi in qualche modo? Ma sì, perché non? Vabbè, simpatici Va bene, allora cosa dovremmo fare? A parte... Eccoci, due, uno, che cazzo succede? Non ho neanche iniziato a registrare già subito parte Vabbè, io riuscirò a battere tutti, ragazzi, c'è Rutilia, Rutilia, cazzo Che volete battere a Rutilia? Uh, aspetta, mi si è fermato il cavallo! Ha inchiodato da panico, aspetta Dannazione, non mi farò battere Oh, merda, no Abbiamo perso, abbiamo perso a prescindere, ok? Ve lo dico già Sto cavallo inchioda come se non ci fossero domani Devo arrivare primo, Donati Non mi supererai Lurido, aspetta, bravo Guarda come... Non lo so perché mi ha frenato all'improvviso Va bene, a noi va bene Non ci importa Comunque, dovremo arrivare primi Sempre primi Non arriveremo... Oh, scusate, scusate Passo con permesso Purtroppo si mettono davanti i coglioni Noi che ci dobbiamo fare Scusate Ma chi? Ah, e voi perdete terreno Io vado sempre a mille E così Gerhard vince Primo, un'altra volta Ho vinto un sacco di partite a cavallo Nelle missioni secondarie È davvero fantastico Soprattutto quando inchiodate davanti al tipo Quello poi sbaglia Dice Oh mio Dio, un cavallo ha inchiodato Frena anche lui Quindi voi ricoperate stamina Lui no E poi partite Quindi sarebbe una cosa abbastanza simpatica Che faccio più o meno tutte le volte Perché Cavolo Senza un po' di strategia Un po' di cose del genere Non si va avanti Sì, sì Tutti felici e contenti A parte il lab Va bene L'unica cosa Non fatemi rimanere solo in mutande O usare la leggeria di Yennifer Perché altrimenti Facciamo come prima Diventiamo un po' froci E la cosa non mi interessa Sinceramente Vabbè Ci fa partire nella festa O direttamente quando è finita Perché Ah, ok Nella festa Salve Complimenti Buon piano Che cosa ti preoccupa? Prima dobbiamo sconfiggere la caccia Un buon piano Che vuoi dire? 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 A volte Vorrei che potrei essere come loro Exclusivamente Tu scusi chi sei Geralt Vedi che non è mai vero O perché di questo Dammd Elderblood Il mio gift Il mio curso Scusa Sconfiggeremo Eridin E tu sarai libera Vai così Gira il coltello Nella piaga Non essere ingenua Possiamo andarcene ora Complimenti Complimenti Bravissimi Hai schifo Vengegli un pomodoro No Hai trovato i cavalli? Sì Ok ma Potrei comprarli io per voi? Ah bene E va bene Beh effettivamente il nostro garante è un po' più pensatore ma quando si si ma quando si ma quando ci sono delle opportunità così come facciamo a scapparle no? Cosa ho detto non ne ho idea quando ci sono delle opportunità del genere come facciamo a farcele scappare Sì comunque dicevo scusate ma sono tipo tre ore che registro quindi sono un po' andato Cioè vedo il coriandoli vedo la gente che vola Gli asini volanti e i cavalli che nutano Vabbè in Skyrim c'è Ma non facciamo caso a Skyrim Vabbè come Vado qua Sì sì con calma saliamo su allora e vabbè lì c'è una finestra che potremmo utilizzare Beh oh mio dio sto cadendo non è vero Gli è pepe ok pian Scusate 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 che cazzo è Salve Vai a cazzotti a cazzotti Geralt colpisci Geralt colpisci Geralt Riusciremo a picchiarlo come se non ci fossero domani Vai di cazzotto vai di cazzotto ancora vai di cazzotto perfetto così Un altro cazzottino e nezzese Oh è duro però eh E muoi Muoi Muori dannato Perfetto E' andato è andato vi apro Ecco Esamina Prendi la chiave E apri la porta Stai guardando un tavolo Geralt Portiamoci i cavalli vai così Ah calma i cavalli con l'axe ok Veramente l'ho picchiato a sangue la guardia ma Non fai finta di niente Geralt Non fai finta di niente Aspetta Stai calmo cavalluccio Allora calmiamo i cavalli Ok Stai fermo dannato cavallo Ok Si sono calmati Ah così va bene Mi aspettavo delle cose un po' più eclatanti tipo Aspetta cavallo Devo farti una pedicure Gli facevi la pedicure e si calmavano Mamma mia Troppo tardi mi sa eh Guarda sto cavallo com'è bellino Cavallo puccioso E mura che non si caricano Fantastiche Le texture fatte proprio a culo Perfetto Oh yeah bitches Ah di niente Eh no vero vero Eh no vero vero Grazie per la tua help E per la visitazione Ciao giovane Questo è il nostro saluto Allora Sì 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 Pure noi Eh no a me non mi va Vabbè dopo forse Ah vabbè abbiamo finito la missione Quindi vendetta l'abbiamo finita Speriamo di sì perché non ne posso più Ok vendetta missione finita Chiede aiuto a Zoltan La grande fuga I preparativi Aiuto a Yeni Farà liberare Margarita Manca solo quello praticamente E le missioni secondarie Stanno a me farle Quindi Novigrad La città chiusa Mmm Ci serve il tuo aiuto Per liberare Margarita Quindi ci aiuterai Rita a Dayrod Got a plan to break her out But we need your help What should I do? Load a wagon with as much Mahakaman as you can find And drive it to Oxenford Yennefer will give the signal He'll drive through the gates And treat the guards Ugh These are terrible times Since the mage has left town The hunters have taken To harassing non-humans And all flingering around The prison gates Only stands to act like attention Right Didn't think of that I'll go straight to Yen In that case She went to find a way Quindi Detto ciò Arrivederci Ciao ciao Zoltan See you later Sì dicevo Detto ciò Ci manca l'ultima missione E poi potremo andare a fare Quindi l'ultima missione Del gioco Immagino Incontro Yennefer Al ponte Al ponte Di Oxenford Eccoci arrivati Comunque nel frattempo Mentre voi non c'eravate Mi sono un po' potenziato Il personaggio Infatti Siamo arrivati a livello 32 Ho fatto qualche missioncina Varia E non sono ancora arrivato A livello 34 Per possedere l'armatura Dell'orso migliorata Cioè quella massima Praticamente L'armatura dell'orso Perfetta Quindi detto questo Ragazzi Io adesso Andrei Da Yennefer Per fare questa Penultima missione Per poi fare L'ultima missione Del gioco Immagino comunque Per giocare L'ultimo capitolo Di questo gioco Bene quindi Zoltan non ci aiuta Non mi ricordo perché Perché non ho Sentito Molto bene Il La conversazione Comunque Entra nella prigione Attraverso il puzzo Va bene Andiamo Scusi Permesso Permesso Mi scusi Oh Sono d'acciaio Si tipi eh Novograd Hierarchi Have taken Great care To eradicate Any and all Memories Of the city's Elven roots Even if Anyone Remembers The ruins Are there They have No recollection Of how far And where They extend And I'm Absolutely Certain No one Thought To place Sentries There Hope You're Right Polder Was plugging The well Until recently Due to An edict Hemelfart Issued Some years Ago But I Managed To find Two Brawny And Obliging Passers By Who Agreed To Remove Ah Ok Potevi Chiamare Me Giustamente Pensavo Che saresti Venuto Con me Si eh Grazie Yey Abbiamo La nuova Armatura E quindi Bagniamola Perfetto Crepi Signora Signora Crepi C'è una lingua Bruttissima Signor Comunque Andiamo di qua Dov'è che dovrei andare Per riuscire a Trovare il luogo del delitto Non di qua Oppure si Ah Ah Dovrei trovare una leva Salve C'è nessuno Arriva Geralt C'è nessuno Ah Eccoli Droner Dannati Venite qui Cazzarola Ok Prendi e cazzotti il Drawner Prendi e cazzotti il Drawner Anche l'altro Che facciamo Chi si e chi no Prendi un Drawner E spaccagli il culo Dannazione Giovanotti Uno alla volta La schivata Schivata Colpisce anche lui Ok Perfetto Sono morti Adesso Detto ciò Dovrei andare Da qualche altra parte Ma dove Perché non trovo la leva Allora Di qua Ah Quindi C'è un cazzo Dannati uomini Selvaggi Ah Siamo ritornati da questo lato Vabbè Comunque Allora Vado di qua Devo aver Dimenticato di esplorare qualcosa A quanto pare Perché È impossibile Che non ci sia nient'altro Aspetta Aspetta Qua c'era qualcosa E ho visto anche un punto russo Quindi abbiamo trovato Aspettate Prendi sta erda di Drawner Eccolo qua Leva Ripara il meccanismo E apri le porte Giustamente Quindi andiamo a riparare il meccanismo E ad aprire finalmente Quelle dannate porte Che non si vogliono aprire Qui cosa c'è comunque C'è un mostro sott'acqua Vabbè Noi Non ci facciamo caso Al mostro Arrivederla Mostro Mi raccomando Faccia Buon Uso del suo tempo Ecco Non sapevo che cazzo dire D'accordo Vai Usa Andiamo Ora Detto ciò Andiamo qui Sì Quindi usiamo Il segno hard Aspettate Ho detto hard Perfetto Ah No questi li odio Questi esplodono Aspetta Fallo esplodere prima Poi casomai No 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 Perfetto Direi che sono morti ugualmente No Così muoia anche lei Muoia Dannato Gul dei meccanismo Muori Ma baffa culo Bennazione Perfetto Oh Oh Stai calmo Giovane Non ti avevo visto a te Non muore più sta merda Di cosa hai fatto D'amantio Scusi Abbiamo ammazzato il tipo Adesso dovremo andare avanti Dove Di qua Presumo di sì Di qua E' chiuso Ah Bene Margherita Ah Salve No non avevo vista lei No pensavo ci fosse Margherita Scusa Scusa Ho sbagliato persona Mi scusi Ho capito che non è una femmina Ma non si incazzi così Qui Si aveva delle fogne Ok quindi adesso possiamo Ho capito Sono molto belle quelle carte Geralt Direi ora possiamo andare Vero Dove cazzo dobbiamo andare Come al solito Ah Salve Che cazzo Ogni volta questi sbucano così Come se non ci fossero domani No non mi colpisca Con quella gigio Dannato Aspetta Una alla volta Perfetto Colpisci Ok Yes Perfetto così Ah E' questa Margherita L'abbiamo trovata Giorgio Con la U Non con la O Aspetta L'avrei già preso Sbaglio Ah no Ok Bene Quindi Sicuri che non si apra? No Va bene Allora andiamo sopra Penso di dover ritornare indietro Esattamente E andare a riprendere la chiave Di quel tipo Eccoci Salve A cazzotti A cazzotti Prendi a cazzotti Il cacciatore di Tai Non è vero Scherzavo Scherzavo Mannaggia Starzente Come si incazza però Io faccio uno scherzetto Loro No subito Lui è un malsano Malfamato Degli dei E crepi Ah Tecnicamente Devo andare ancora più su Quindi scusate Non era questo Il luogo dove dovevo andare Sorry Sorry Arrivederci Dove dovrei andare? Eh c'è un bel po' di gente qua Quell'uomo sta prendendo il sole sopra una cesta? Crepa Crepa ho detto Oh giovanotto Devi crepare Da devi morire Che cazzo? Ragazzi Complicato farle morire a questi Ammazza Oh yes bitches Oh il capo delle guardie No 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 Stai calmo Stai calmo Giovane Allora Questa è una battaglia All'ultimo sangue Colpisci Uomo mi scusi Dovrebbe crepare Eh Vuole crepare Non so Faccia lei Però Io qua starei perdendo un mucchio di tempo No no Perché toglie la guardia? Perché mi ha tolto la guardia? Adesso vorrei sapere Perché ragazzi Stavo combattendo Ma ha tolto la guardia Non lo so perché Oh Liscio Bello Liscio Tu lisci sempre Giovanotto Colpisci Colpisci Oh yes baby E la testa Vola via Esamina il cadavere Del comandante Per prendere la chiave Quindi Eccoci qua Tadaa Sbloccato Adesso possiamo portarcela In groppa E la testa E la testa Iyana, non mi riesco a farlo. Prendete, devi prendere. Sto morto, Iyana. Sono un sacerdote. Devo morto con dignità. Capisco. Va bene, poniamo fine le sue sofferenze. Prendete un portale con te due. Deve bisogna uscire. Non mi piace portali. Andiamo! Non mi piace portali. Oh beh Non avrei voluto farlo Certo Era comunque una maga Ma non avrei voluto farlo Vabbè Allora dov'è l'uscita? Là Comunque sì Non avrei voluto ucciderla Il problema però è che Comunque stava morendo Non so se l'avessi lasciata vivere Penso comunque Che sarebbe morta Soltanto un po' Finito? Soltanto un po' più tardi Penso sarebbe successo lo stesso questo Quindi Va bene uguale Va bene uguale Comunque Possiamo andarcene Con le scale Ah c'è ancora il tipo Perciò non mi facevo uscire Vabbè Comunque crepa lei Perché altrimenti qua Ci stiamo tutta la notte Perfetto Ed è morto senza testa Adesso possiamo andarcene Sì Di qua Ok Via Verso l'infinito ed oltre Perfetto Mo Incontra Yennifer E la loggia delle maghe Alla taverna di Dandelion Gli ultimi preparativi anche Sono stati completati Quindi direi che Adesso dobbiamo andare a fare Penso e suppongo L'ultima missione del gioco O comunque l'ultimo capitolo Della parte finale Della missione del gioco Quindi andiamo a vedere Un po' di chi si tratta Poi nel caso Non riuscissero ad avere L'armatura finale Perfetta Non importa Tanto comunque Il gioco è finito Non è che mi serva più di tanto Quindi andiamo subito a vedere Io intanto vi taglio la parte Vi taglio il caricamento Eccoci qua Dica Vabbè A che proposito Verrò con te Com'è carino Quel gatto Quel gatto è un po' bagaticcio Va bene Sono tutto orecchi Come? Think of me As part of the decor The Lodge Once had great plans For you Important plans Surely you remember You were to complete Your studies And become one of us Unfortunately That did not come to pass We intend to revive The Lodge And we renew our offer You must join us We are saddened Our dear Sheila Will not join in this endeavor But the circumstances Proclude any prolonged morning What is your decision? Will you join us? As before And to marry some princeling And become your puppet You were a child then And we Miss judge the situation This time we offer you a partnership Non mi fido Non mi fido affatto Ah devo fare io? C'è sempre qualcuno Capo della loggia La loggia È perseguita È perseguita Dalla legge Sarai di nuovo Una fuggitiva Capisco Quindi Tutte e due Dicono di no Alla fine Fammi pensare C'è qualcuno Capo della loggia? Io non mi fido affatto Quindi dico di no 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 ma neanche le vostre No ma meglio lui di voi Sì possiamo fidarci Non mi fido di nessuno La decisione spetta a Siri O l'ultima o la prima L'ultima I don't trust him Va bene Quindi Va bene Abbiamo finito Quanto pare no Io non mi fido affatto Quindi Penso di no Con Yennifer Immagino faremo I forever alone Ah no Attenzione Ma che Scusate Mi sento un po' In mezzo Non è che fate il triangolo Mureuso Poi fate una cosa a tre Una cosa a tre Che succede? Una cosa a tre Una cosa a tre Grandissimo Grandissimo Gerard Quindi andiamo al dunque E Gerard Senza fare un Ben che minimo Sforzo A tutto Per sé L'idea mi piace Molto E fino a qui ci siamo D'accordo Quindi Capisco Ok Dovrebbe essere una cosa Abbastanza normale Ma non mi fido Quando due rivali Si mettono assieme Per amore Contro lo stesso Amato Quello che deduco È che ci stanno prendendo Ampiamente per il culo Quindi non so voi Ma io penso Che ci stiano prendendo Ampiamente Ma proprio per i fondelli C'è da dentro il culo Perfetto Appuntamento a tre Incontra Triss E Yennifer A Martin pescatore Esperienza 800 Abbiamo anche Livellato Io adesso mi aumenterei Subito subito di livello Così senza perdere Ulteriore tempo Quindi vediamo un po' Come livellarci di livello Vediamo Penso questa qua Yes Adesso siamo un po' Più cazzuti Siamo a livello 33 Mi manca il 34 Se non sbaglio Per avere la nuova armatura Mi pare si ottenesse Il livello 34 Quella perfetta Quindi detto questo Io direi anche Di fermarci qui Con questo episodio Vediamo le missioni Che dobbiamo fare Nel prossimo episodio Allora Allora Appuntamento a tre Gli ultimi preparativi Sono finiti Quindi dobbiamo fare Soltanto questo Incontra Triss E Yennifer A Martin pescatore E noi lo faremo Molto volentieri Anche se Come ho già detto Non mi fido minimamente E penso che ci sarà Una di quelle burle Più totali Nel senso Arriviamo là Ci legano Non so Con manette Con corde Cose molto contundenti E ci spiegheranno Che vogliono Soltanto prenderci Per il culo Però detto questo Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Andremo a fare Questa cosa a tre Nel prossimo episodio Quindi spero che il video Vi sia piaciuto Se sì ovviamente Mettete mi piace Condividete Commentate Ed iscrivetevi Noi ci vediamo così Nel prossimo episodio Di The Witcher 3 Wild Hunt E ci stiamo avvicinando Sempre di più alla fine Lo dico ogni episodio E ad ogni episodio Ci avviciniamo Quindi Un saluto a tutti E al prossimo video Bye bye